La Sfinze senza enigmi Un pomeriggio, seduto all'esterno del caffè della P, sorseggiando un vermouth, osservavo splendori e miserie della vita parigina, e mi stupivo dello strano miscuglio di ostentazione e di povertà che passeggiava davanti a me quando mi sentii chiamare per nome. Mi voltai e riconnobbe Lord Marcenson. Non c'eravamo più incontrati da quando frequentavamo insieme l'università. Erano passati circa dieci anni. Fui felice di rivederlo e ci stringemmo la mano con calore. A Oxford eravamo molto amici. Mi piaceva moltissimo. Era bello, spiritoso e leale. Di lui dicevamo che sarebbe stato l'amico ideale se non avesse avuto il vizio di dire sempre la verità. E tuttavia credo che lo ammirassimo tanto di più proprio per la sua franchezza. Mi parve profondamente mutato. Sembrava inquieto e perplesso, come se fosse stato assillato da qualche dubbio. Supposi non si trattasse di un atteggiamento scettico, perché Marcenson era un fervente conservatore e credeva con attenta fermezza al testamento come nella camera dei pari. Giunsi quindi alla conclusione che la causa delle sue preoccupazioni dovesse essere una donna e gli domandai se si era sposato. Mi rispose, io le donne non le capisco abbastanza. Io caro Gerald, obiettai, le donne sono state create per essere amate, non capite. Ma io non posso amare un essere in cui non ho fiducia, replicò. Io penso che la tua vita nasconda ora qualche segreto, Gerald, esclamai. Raccontami. Qui no, c'è troppa gente, rispose. Prendiamo una carrozza. No, non quella gialla, una carrozza ad un altro colore. Ecco, quella lì, quella verde scuro. E dopo pochi minuti ci inoltravamo velocemente in direzione della Madeleine. Dove andiamo? gli chiesi. Dove vuoi? rispose. Va bene al ristorante del Bois de Boulogne. Possiamo cenare lì. Vi racconterai di te e della tua vita. Prima voglio che sia tu a confidarti, dissi. Svelami il tuo mistero. A questo punto egli trasse dalla tasca un piccolo astuccio di marocchino con fermaglio d'argento e me lo porse. Lo aprì. Dentro c'era la fotografia di una donna alta, ma esile. Aveva un'aria stranamente esotica, con grandi occhi assenti e i capelli sciolti. Sembrava una clairvoyante ed era affasciata da una pelliccia di gran pregio. Che ne dici di questo viso? mi chiese. Ti sembra una donna sincera? Lo esaminai con attenzione. Pareva un viso di qualcuno che nascondesse un segreto, ma non potevo dire se si trattava di un segreto innocuo o malvagio. La sua era una bellezza modellata da molti misteri, una bellezza che derivava più dalla psiche che dalla perfezione dei lineamenti. Il lieve sorriso che sfiorava appena le labbra era troppo indefinibile per essere veramente tenero. Allora, esclamò con impazienza, che cosa pensi di lei? È una gioconda in zi bellino, risposi. Dimmi tutto, di lei. Adesso no, replicò. Dopo cena, essi mise a conversare su altri argomenti. Quando il cameriere portò il caffè e le sigarette, ricordai a Gerald la sua promessa. Allora si alzò, fece qualche passo avanti e indietro nella stanza e, infine, lasciandosi cadere in una poltrona, mi raccontò la storia che segue. Una sera verso le cinque stavo andando a passeggio per Bone Street. C'era una rassa di carrozze e il traffico era quasi bloccato. Vicino al marsapiede si era fermato un piccolo cupe giallo che per caso attirò la mia attenzione. Mentre vi passavo accanto si sporse dalla vettura quel volto che ti ho mostrato poco fa. Ne fui immediatamente affascinato. Per tutta la notte, per tutto il giorno successivo non feci altro che pensare a lei. Il giorno dopo girovagai su e giù per quel maledetto roux, sbirciando in tutte le carrozze aspettando il coupé giallo, ma non riuscii a trovare la mia bella sconosciuta e alla fine mi convinsi che esistesse soltanto nei miei sogni. Circa una settimana dopo fu invitato a cena in casa di Madame de l'Estelle. Si doveva andare a tavola alle otto, ma alle otto e mezzo eravamo ancora in attesa nel salotto. Finalmente un domestico aprì la grande porta e annunciò lei a D'Aldroy. Era la donna che avevo tanto cercato. Entrò molto lentamente e sembrava un raggio di luna avvolto in un pizzo grigio. Con mia grande gioia mi fu chiesto di accompagnarlo nella sala da pranzo. Quando fumo seduti osservai ingenuamente. «Credo di averla scorta qualche tempo fa in Bonne Street», la di Aldroy. La impallidì e sussurrò con un filo di voce. «Non parli tanto forte, la prego, possono sentirla». Mi sentì sconsolato per questo esordio tanto poco felice. E mi immersi precipitosamente nell'argomento delle commedie francesi. Lei parlò pochissimo, sempre con quella sua bassa voce da contralto. Pareva avesse paura ad essere ascoltata da qualcuno. Mi innamorai appassionatamente e stupidamente. L'indefinibile atmosfera di mistero che la circondava mi aveva profondamente incuriosito. Mentre stava per andar via, cosa che fece quasi subito dopo cena, le domandai se potevo farle visita. Per un secondo esitò, guardandosi intorno per vedere se non ci fosse nessuno accanto a noi. E infine disse «Sì, domani, alle cinque meno un quarto». Pregai Madame de Restey di parlarmi di lei. Ma riuscì a sapere soltanto che era vedova e con una magnifica casa in Park Lane. Quando, tedioso uomo di scienza, cominciò una dissertazione sullo stato vedovile, sostenendo la tesi che il legame matrimoniale si prolungava oltre la morte, lasciai il salotto e me ne tornai a casa. Arrivai a Park Lane il giorno seguente, esattamente nell'ora indicatemi, ma il maggiordomo mi disse che Lady Elroy era uscita da poco. Allora andai al mio circolo molto infelice e perplesso. Dopo una lunga riflessione, dopo una lunga riflessione, escrissi una lettera con la richiesta di rivederla in un altro pomeriggio. Per diversi giorni non ricevetti alcuna risposta, ma finalmente mi fu recapitato un biglietto in cui ella mi diceva che sarebbe rimasta a casa domenica alle quattro. C'era anche questo strano poscritto. La prego, non mi scriva più. Viene spiegherò a voce il motivo. La domenica mi ricevette e fu davvero incantevole con me, ma al momento di accomietarmi mi pregò, nel caso avessi voluto scriverle ancora, di indirizzare la lettera alla signora Knox presso la biblioteca Wittekker in Green Street. Ci sono delle ragioni, mi disse che mi vietano di ricevere posta in casa mia. Nel corso della stagione mondana la vidi molte volte e sempre circondata dallo stesso alone di mistero. Allora pensavo che fosse dominata da qualcuno, ma appariva così inaccessibile che non potevo crederlo. Non era facile trovare una spiegazione al suo comportamento perché era simile a certi strani cristalli che si vedono nei musei. Ora sono limpidi, ora sono opachi. Andò a finire che decisi di chiederla in moglie. Ero esasperato e stanco dalla costante segretezza che imponeva a ogni mia visita e alle poche lettere che le mandavo. Le scrissi presso la biblioteca chiedendole di incontrarla il lunedì seguente alle sei. Rispose che mi avrebbe ricevuto e io fui al settimo cielo. Ero pazzo d'amore. Nonostante il mistero che circondava la dietro, pensavo allora. A causa di quel mistero, sostengo oggi. No, era proprio la donna che io amavo. I suoi segreti mi turbavano, mi facevano ammattire. Perché mai il destino mi aveva posto sulla sua strada? E ora? L'hai scoperto? Gli chiesi. Temo di sì, mi rispose. Giudichene tu stesso. Quando giunsi quel lunedì, pranzai da mio zio. E verso le quattro io mi trovavo in Merilbone Road. Come sai, mio zio abita in Regent's Park. Volevo raggiungere Piccadilly e attraversai, per abbreviare il percorso, un ginepraio di viuzze malfamate. All'improvviso vidi davanti a me la dialuroi, fittamente velata, che camminava di buon passo. Arrivata all'ultima casa della via, salì i pochi gradini, aprì con una chiave la porta ed entrò. Ecco il mistero, dissi a me stesso e presi a esaminare la casa. Sembrava una modesta pensione. Sui gradini davanti al portoncino c'era un fazzolettino che ne era caduto. Lo raccolsi e me lo misi in tasca e poi riflettei su cosa fare. Giunsi alla conclusione che non avevo il diritto di spiarla e mi recai al circolo. Alle sei mi presentai in casa sua. Era sdraiata su un divano. Vestiva un abito da pomeriggio di lame d'argento, chiuso da strani fermagli di pietra di luna. Fu gentilissima. Come sono lieta di vederla, mi disse. Non sono mai uscita in tutta la giornata. La fissai stupefatto. Trassi il fazzolettino dalla tasca e glielo porsi. «Le è caduto questo pomeriggio in Camden Street», disse con molta calma. Ella mi guardò terrorizzata, ma non osò riprendere il fazzoletto. «Che cosa faceva in quel luogo?» le chiesi. «Che diritto ha di interrogarmi?» rispose. «Il diritto di un uomo che l'ama?» risposi. «Sono venuto a chiederle se vuol diventare mia moglie». Lei nascose il volto tra le mani e scoppiò in lacrime. «Deve dirmi tutto», continuai. E di Elroy si alzò e guardandomi negli occhi disse «Non ho niente da dirle, Lord Martinson». Allora gridai «Serà un uomo ad aspettarla, ecco il suo mistero». Impallidi mortalmente e rispose «Non mi aspettava nessuno». «Perché non mi dice la verità?» scremai. «Le l'ho detta», rispose. Mi sentii impazzire e non riuscii più a dominarmi. Non ricordo le mie parole, ma le dissi cose terribili e finalmente mi precipitai fuori da quella casa. Il giorno seguente mi scrisse una lettera, che rispedii senza aprirla, e partii per una crossara norvese insieme con Alan Colville. Dopo un mese di ritorno in Inghilterra, come prima cosa lessi sul Morning Post, la notizia della morte di Lady Elroy, ed era morta di polmonite cinque giorni dopo. Mi chiusi nel mio dolore e non vogli vedere nessuno per molto tempo. L'avevo amata tanto, alla follia. Dio, quanto l'avevo amata. «Non sei tornato in quella strada, in quella casa?» domandai. «Sì», mi rispose. «Sono andato tempo fa in Camnor Street. Non sono riuscito a impedirmelo. Ero torturato dal dubbio. Ho suonato e mi ha aperto una donna dall'apparenza rispettabile. L'ho chiesto se aveva qualche stanza da affittare. «Sì, signore, ce n'è una col salottino che è libera. Non vedo la signora che l'aveva presa da più di tre mesi. La pigione è scaduta e quindi potrei darla a lei. La pigione è scaduta e quindi potrei darla a lei. Questa signora?» l'ho chiesto mostrandole una fotografia di Lady Elroy. «È proprio lei, sicuro?» ha esclamato la donna. «Quando tornerà, signore?» «La signora è morta», ho detto. «Spero non sia vero», ha detto la donna. «Era stata la mia migliore inquilina e mi pagava tre guinee alla settimana solo per sedere nel salotto ogni tanto». «Incontrava qualcuno?» le ho chiesto. «Ma la donna mi ha rassicurato di no e che veramente era andata sempre da sola e non s'era mai visto nessuno». Allora le ho esclamato «Che diavolo faceva qui, dunque?» Sedeva semplicemente nel salotto, leggeva qualche libro e qualche volta prendeva una tazza di tè», ha risposto la donna. «Non sapevo più che cosa dire. Le ho dato una sovrana e me ne sono venuto via». «Adesso dimmi tu che cosa pensi di questa storia? Credi che quella donna abbia detto la verità?» «Sì, lo credo. Ma allora perché mai Lady Elroy andava in quella casa?» «Caro Gerald», risposi, «Lady Elroy aveva semplicemente la passione di circondarsi di mistero. Aveva preso in affitto quella stanza per il piacere di andarci tutta velata, immaginando così di essere l'eroina di un romanzo. Aveva una passione per i segreti, ma era semplicemente una sfinge senza enigmi». «Lo credi proprio?» «Ne certo», risposi. Lord Murchison trasse di nuovo l'astuccio di Marocchino, lo aprì e fissò la fotografia. Dopo una lunga pausa disse «Devo crederlo». «Devo crederlo». «Devo perdere il pianowasso di marocchino», lo aprì e fissò la sugger because RIS l' killer del caos che non socksable. Mergo! E